Se l'Aquila può festeggiare in grande stile, con un netto 4-0 davanti al pubblico delle grandi occasioni, il Giulianova esulta nel finale, con i tre punti che valgono i play-off nazionali. Complice l'Ovidiana Sulmona che ferma l'Angolana, distruggendo i sogni play-off regionali di entrambe, i giallorossi di Cerasi piegano il capistrello e negli spareggi sfideranno l'Emilia Romagna. 4-0 è il risultato più gettonato di giornata, dal poker del Gran Sasso d'Italia alle quattro reti dello Spoltore, a Valanga sul Lanciano. Anche il Sambuceto travolge l'Ortona, i ragazzi di Sansovini raccolgono il pallone in fondo al sacco per ben quattro volte e i gialloverdi ora sono terzultimi a quota 32. Il derby di Sant'Egidio va all'Alba Adriatica, in una gara piena di contestazioni. Ora il rosso-verdi di Vagnoni potrebbero addirittura puntare alla salvezza diretta, considerando lo stop dei ragazzi di Del Grosso nel derby di Castelnuovo. Nella prossima giornata l'Aquila farà visita ai ragazzi di Bonati, che nell'anticipo hanno avuto la meglio contro il retrocesso Nereto. I rosso-blu di Vitale continuano ad onorare il campionato e domenica si ritroveranno davanti un'Ortona a caccia di punti salvezza. L'Alba Adriatica ospiterà il Sulmona di Mecomonaco, che ora punta il terzo posto, obiettivo condiviso con la Torrese, che farà visita al Capistrello. La pesante sconfitta con il Pontevomano complica la situazione della squadra di Antignani, domenica sarà decisiva Castelnuovo-Montesilvano. L'arenato Curiangolana ha mollato la presa, al Petruzzi arriverà lo spoltore. Fari puntati su Pontevomano-Santegidiese, i vibratiani cercheranno il riscatto dopo la delusione nel derby salvezza.